beh vedete questo gattino che ho incontrato qui in centro in via pitagora con angolo via pupino a pochi passi da casa mia mi ha reso davvero felice beh in una torrida domenica stiva col caldo che veramente ci ammazza c'era questo poverino che stava così aveva bisogno di essere rifocillato aveva bisogno di un po d'acqua aveva bisogno di cibo e grazie alla collaborazione dell'amico della pizzeria qui di fronte abbiamo provveduto a sfamarlo beh sono quelle piccole cose che magari per alcuni possono essere insignificanti per me hanno un valore hanno un significato mi questo gesto mi ha fatto sentire felice mi ha fatto sentire utile abbiamo abbiamo come dire siamo stati capaci di dare una mano di salvare una vita sì perché la vita non ha prezzo qualunque essa sia sia di un essere umano sia di un animale l'importante è la vita con la soddisfazione di aver aiutato questa piccola creatura questo cuccioletto che ho qui a fianco guardatelo ecco cuccioletto io ecco non so se lo riusciamo a riprendere eccolo qui guardate e mi sento davvero felice e piccolo sorridi sorridi beh conta sempre su di noi ci saremo sempre per aiutarti